Iniziate le prime verifiche nelle scuole, chiuse con ordinanza dal sindaco Cialente, da parte dei tecnici del comune dell'Aquila, che nelle prime ore successive al sisma 6.5, che ha colpito Umbre e Marche, ha attivato il centro operativo comunale negli uffici di Via Olisse e Nursia. Una macchina già collaudata a causa del sisma della settimana scorsa e del 24 agosto, che solo due giorni fa era stato chiuso. Gli eventi di ieri poi hanno fatto tornare tutti in prima linea. Il COC è stato aperto immediatamente dopo il sisma, purtroppo è una procedura consolidata, perché ormai stiamo testando spesso. Siamo tirolati tutti quanti qui, abbiamo cominciato immediatamente a fare i sopralluoghi, andando nel centro storico dove ci segnalavano delle criticità. Abbiamo dovuto interdire alcune strade per l'accesso veicolare e pedonale. Possiamo ricordare? Abbiamo fatto un restringimento di carreggiata in prossimità dell'ex benzinaio che si trova alla villa comunale. Un restringimento di carreggiata sempre sulla parte in prossimità dell'edificio ex Banca del Fucino e sulla via delle Buone Novelle. Poi abbiamo fatto una piccola interdizione sulla piazza di San Franco ad Assergi. Quindi diciamo che al momento queste rappresentano le criticità. Poi abbiamo provveduto a fare il sopralluogo in tutte le zone del centro storico, le zone verdi, per verificare che non ci fossero stati cambiamenti rispetto alla perimetrazione della zona rossa. Stamattina abbiamo cominciato i sopralluoghi nelle scuole. Ci sono otto squadre di tecnici che stanno andando in tutti quanti gli edifici per verificare la situazione delle scuole. Quindi più tardi avremo un report di questo stato. Stanno arrivando le richieste di nuovi sopralluoghi. Siamo in attesa della definizione di procedura che poi verrà diffusa ovviamente a mezzo stampa per indicare qual è il metodo per eventuali richieste. Diverse e numerose poi le lesioni denunciate da cittadini in edifici e rimobili privati e moltissime le segnalazioni ai vigili del fuoco. Probabile che verranno riattivate le procedure messe in campo per chiedere i controlli attivati dopo il terremoto di Amatrice. Dobbiamo verificare qual è la procedura che verrà predisposta per comuni come i nostri. Per il terremoto del 24 di agosto era stata prevista la possibilità di chiedere i sopralluoghi e questo è stato chiuso il 15 di ottobre. Adesso appena avremo nuove indicazioni verrà data comunicazione a mezzo stampa e tutti quanti avranno modo di capire cosa bisogna fare.